Ciao a tutti amici e amiche, oggi vorrei parlarvi di un romanzo che io ho appena finito di leggere e ho trovato assolutamente straordinario. Il romanzo è questo qui, Il profumo, di Patrick Susskind, edito dalla Thea, con questa copertina meravigliosa. È un romanzo di soltanto 259 pagine, ma in queste 259 pagine sono concentrate veramente delle sensazioni e delle vicende straordinarie. Siamo nella Francia del 1700, che è sommersa da una cappa di odori disgustosi e nauseabondi. Quindi, in questo periodo, il 17 luglio del 1738, per l'esattezza, in mezzo a tutte queste esalazioni pestilenziali, nasce Jean-Baptiste Grenouille, il protagonista, unico essere umano al mondo a non possedere un proprio odore, ma a possedere invece un dono straordinario, cioè la capacità di percepire, incanalare nelle proprie narici, catalogare in sé ed imprimere in maniera indelebile nella propria mente e nella propria memoria qualsiasi tipologia di odore, indipendentemente dalla sua distanza. Quindi lui può trovarsi anche a distanza magari di chilometri da un dato odore e percepirlo ugualmente. All'inizio Jean-Baptiste non è selettivo o schizzinoso nella sua ricerca degli odori, ma arde dal desiderio di apprendere e racchiudere in sé ogni tipo di odore, quasi a crearne un vastissimo catalogo mentale. Quindi dal profumo più intenso a quello più delicato e impercettibile, dal puzzo più nauseante e insopportabile a vaghi e indistinguibili, naturalmente ad un naso comune, sentori di putrefazione, zaffate di cloaca e olezzi vari. Non fa differenza per lui. Però pian piano il suo naso diventerà sempre più esigente, fino a desiderare di possedere letteralmente ogni odore. Sarà questo, proprio questo motivo, questo fatto, a spingere Jean-Baptiste a commettere il primo omicidio di una lunghissima serie. La sua seta di conoscenza degli odori lo porterà in un viaggio attraverso il quale cercherà di apprendere non solo tutte le tecniche di estrazione e di distillazione dei profumi, ma la sua brama ossessiva lo porterà anche a viaggiare per tutta la Francia, nonché all'interno di sé stesso. Dopo sette anni, ben sette anni, figuratevi, di autoesilio, trascorsi in completa solitudine, lontano da ogni essere umano e da ogni altro contatto umano ci possa essere, in periodo in cui si è cibato praticamente solo di ricordi olfattori e si è dissetato fino quasi all'ubriachezza di fragranze olfattive, deciderà di creare un profumo per sé, una fragranza tutta personalizzata e quindi il profumo perfetto. Altri delitti per raggiungere questo scopo si accoderanno al primo, finché Suskind, l'autore di questo capolavoro, non guiderà il lettore verso un finale che, a parere mio, è veramente a sorpresa, cioè io non mi aspettavo di trovare un finale del genere, ma non ve lo racconto perché altrimenti spoilerò. Un finale dai risvolti talmente mozzafiato da sfociare quasi, secondo me, nella magia più pura. Terminato di leggere il profumo, vi accorgerete di avere le narici sature di stimoli odorosi e di ogni esperienza olfattiva compiuta dal protagonista. Vi sembrerà di aver letto il libro quasi ad occhi chiusi, sfruttando come senso uno dei più sottovalutati al giorno d'oggi, l'olfatto. Vi stupirete di quanto sia possibile percepire i contorni, la costituzione, la natura di cose, persone, animali e tutto quanto vi circondi e sia attorno a voi solo grazie alla descrizione del loro odore. Ecco che grazie a questo romanzo il naso è rivalutato e oltre a rappresentare un appendice più o meno pronunciata, a seconda dei casi, sul nostro viso, torna ad essere un utile strumento per analizzare il mondo. Grenouille, il protagonista, è, come avrete capito, una creatura fuori dal comune, straordinaria che proprio per questa sua capacità incredibile di percepire qualsiasi tipo di odore incute quasi timore nel lettore. Non ha odore, pertanto è impossibile sentirlo arrivare, questo fa di lui un assassino perfetto. È impossibile notarlo subito, ma quando lo si nota non si può non rimanerne sconvolti. È vuoto, è freddo Jean-Baptiste, ma nonostante questo possiede l'istinto di voler essere amato. Non ha un'anima e tutti lo considerano alla stregua del figlio del demonio. Egli si autodefinisce invece un dio, si autoproclama quasi dio di se stesso. È presuntuoso da questo punto di vista Grenouille, ma totalmente assorbito dal proprio scopo di fabbricarsi un'anima, che per lui equivale all'odore. Quindi anima uguale profumo, anima uguale odore. E per creare questo profumo perfetto di cui vi parlavo, si camufferà spesso dietro una maschera di finta ingenuità, di finto servilismo e di finta goffaggine. Questo per poter agire indisturbato e creare la sua fragranza in santa pace, senza che nessuno sospetti di nulla. Arriverà persino, secondo me, almeno così ho avuto questa impressione, ad instillare nel lettore il dubbio che sia davvero ingenuo e che il suo agire non sia dettato dall'arroganza, ma al contrario sia dovuto all'ingerenza di un crudele destino nella sua miserabile vita di genio degli odori. Cosa penso dell'autore e cosa penso più nello specifico di questo romanzo? Allora, penso che così come Grenouille ha creato il profumo perfetto, così Suskind ha creato il romanzo perfetto, miscelando in dosi accurate gli ingredienti come a crearne un profumo per distillare una narrazione, a mio parere, inebriante. Nel suo romanzo, Suskind, ha mescolato sicuramente un po' di romanzo filosofico, un po' di romanzo storico, thriller, giallo o noir, come volete chiamarlo, erotico e persino fantasy e fantascientifico. Ha mescolato veramente ogni genere letterario possibile. Nel suo capolavoro alchemico, perché veramente bisogna definire un capolavoro, un romanzo così ben articolato e così ben mescolato, e amalgamato soprattutto, Suskind si è lanciato in una profonda dissertazione sul valore degli odori, inserendola e incorniciandola, secondo me, in un'attente e accurata ricostruzione storica, che tratteggia il 1700 pre-rivoluzionario francese, quindi tutta la prima parte e oltre del 1700. Il talento di Suskind risiede nel fatto di aver creato un romanzo dalle sfumature erotiche, ma senza cadere nel volgare. E benché ci siano anche molti altri generi racchiusi all'interno di questo romanzo, egli non sconfina mai nell'eccesso di questi ultimi. Non troveremo quindi horror a partire dal giallo, né splatter a partire dal thriller, non troveremo banalità o squallore a sostegno della struttura del profumo. Suskind ha creato una narrazione basata su uno dei sensi più sottovalutati, sortendo l'effetto di rivalutare la potenza dell'olfatto. Quello che mi ha colpito, oltre tutto questo, è anche la narrazione del periodo storico che fa da base a questo romanzo. Perché? Perché c'è tutta una dissertazione anche lì sulla crisi che nel 1700 si stava affacciando e che stava portando piano piano al preludio della rivoluzione francese, agli albori appunto della rivoluzione francese. Una crisi che assomiglia moltissimo a quella che stiamo vivendo noi oggi. Percepita però e raccontata attraverso gli occhi di un altro dei protagonisti di questo romanzo. Molto ben congeniato, quindi a parere mio, questo libro. E' per questo appunto, secondo me, un capolavoro. Tutte queste innovazioni letterarie hanno permesso all'autore di condurre e mostrare ai lettori una Francia del 1700 facendogliela annusare con l'ausilio di vivide immagini olfattive. che non è cosa da poco, perché riuscire a narrare le vicende, i luoghi, le persone e tutto quanto vi possa venire in mente, basandosi soltanto sull'olfatto, è veramente un qualcosa di eccezionale. E non solo, Susskind ha descritto con dovizia di particolari tutti i procedimenti scientifici adottati per la creazione dei profumi e delle essenze. Però nonostante questo, il lettore non si trova esausto alla fine del proprio viaggio, non si trova annoiato alla fine della lettura di questo libro, ma semmai arricchito. E questo accade perché? Perché le descrizioni di Susskind non sono delle lungaggini sterili e fini a loro stesse, bensì un essenziale coronamento di un romanzo scolpito a 360 gradi, il completamento di una narrazione a tutto tondo. Come avrete capito, questo romanzo mi è piaciuto da morire, si annovera quindi, posso annoverarlo quindi tra i miei romanzi preferiti, e sicuramente mi spingerà a leggere altro di questo autore, così particolare e così bizzarro, ma nel suo essere particolare e bizzarro, è sicuramente un grande artista, a parere mio. E' un autore contemporaneo, nato nel 1949 in Baviera, e ha vissuto a Monaco e a Parigi, prima di rifugiarsi in un paesino della Francia sud-occidentale. Quindi sicuramente le sue descrizioni della Francia sono molto esaustive, molto complete, molto dettagliate anche per questo motivo, sebbene parli comunque di una Francia del 1700, quindi di un'epoca ben lontana da lui. Comunque io ve lo straconsiglio, perché veramente è un... secondo me deve essere annoverato tra le pietre miliari della letteratura, davvero, io credo che sia uno dei romanzi più belli che abbia mai letto. Ma detto questo, sono molto di parte, sì, lo so. Niente, vi ripeto, ve lo straconsiglio, e nulla, io la smetto di blaterare, e vi auguro una buona continuazione della vostra estate. Qui il caldo imperversa, contentissimo di imperversare sulle nostre pelli. e niente, basta, veramente la smetto di blaterare, e vi auguro una splendida giornata, e alla prossima, ciao!